La scelta dei colori e dei soggetti è molto legata a quello che è il corpo nella memoria, quindi si parla dell'infanzia per quanto riguarda appunto il coro dei primi periodi della vita e poi dell'amore. La rosa e le varie tonalità di rosa vanno a avere un significato di un colore emotivo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS